bianca siamo d'accordo non dobbiamo dire niente a nessuno ehi e sorridiamo ciao bianca ti vedo diversa oh qui non ti si può nascondere niente è che ho cambiato come se non ci fossimo mai lasciate che gioia edu ma che ha è triste yuki è rimasta in giappone a fare il lavoro dei suoi sogni supervisore artistico in una società di cosplay lei è felice felice ed io triste triste non riesco neanche più a fare addominali ciao ragazzi per fortuna l'estate è finita mi sei mancata tantissimo anche tu mi sei mancato che odio questi piccioncini troppo amore nell'aria ci siamo ecco il momento che avete tanto atteso miei cari follower selfie di coppia e no è anche la coppia social no io me ne vado cari e ragazzi benvenuti alla milano fashion academy quest'anno vi accolgo con una grossa novità ancora novità perfetto non posso più essere il vostro preside dovrò scrivere il nuovo regolamento nel regolamento 2.0 beh assuma un vicepreside che l'aiuti a dirigere la scuola mentre lei si dedica al regolamento 2.0 facciamo noi le vicepresidi che stai facendo? ma chi? ragiona per fare le vicepresidi dobbiamo per forza stare in accademia e quindi oh che peccato non possiamo partire per portland e dobbiamo rimanere qui sei astuta al gida regina delle nevi non si è mai visto un vicepreside sotto i 30 anni e beh ma se sommiamo le loro età hanno circa 30 anni anzi direi qualcosina in più non certo di meno ma comunque meno di 40 anni improvvisamente mi sento vecchia oltre che povera in ogni caso buon lavoro vicepresidi no niente non sono più quello di una volta ciao sono eloise la vostra nuova compagna maggie bianca ciao a tutti siamo maggie e bianca seguiteci sul nostro sito ufficiale canali youtube e profili social e non perdete neanche un aggiornamento né un hashtag ciao 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 Grazie a tutti.